benvenuti in questo video oggi disegneremo delle labbra a matita innanzitutto per disegnare delle labbra dobbiamo disegnare una croce in questo modo successivamente disegneremo un triangolo in questo modo ora da qui disegniamo la curva che troviamo nella parte alta del labbro le labbra non vanno marcate io adesso sto abbozzando ma vanno ricostruite attraverso l'ombra disegniamo i denti si intravedono ciao 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 iniziamo a scurire la parte centrale successivamente ho abbozzato già la parte che sarà più chiara per dare quel senso di volume commento a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ricordo che sotto al video trovate il link del nostro blog dove si trovano vari tutorial su come imparare a disegnare. Fateci un salto, dadci un'occhiata perché si trovano delle lezioni interessanti. Inoltre non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Sto aggiungendo qualche altro elemento del viso ma ritorniamo alle labbra. Quindi ora è il momento di chiaroscurare e dare maggiore volumetria alle labbra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.